buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati telespettatori carissimi di fano tv canale 17 come tutte le mattine ci ritroviamo qui per leggere i giornali lo faremo tra un istante prima il santo del giorno vediamolo subito oggi è sante odoro martire il sole sorto alle sei tramonterà alle sei e mezzo di oggi pomeriggio il tempo vedete qua questo squarcio di cielo azzurro che lascia trapassare lascia passare un raggio di sole che illumina il quartiere di rosciano di fano con il campanile della chiesa che è appunto illuminato dalla dalla luce dal sole però solo è che insomma come vedremo tra pochissimo nelle previsioni non durerà molto sono le 7 32 31 32 e 14 gradi questa è la temperatura esterna allora per oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori nelle zone interne nei settori centro settentrionali della regione e maggiori schiarite in quelli centro meridionali le precipitazioni saranno deboli sparse dalla tarda mattinata di oggi nel pomeriggio più insistenti nei settori interni e settentrionali della regione le temperature sono stazionari o in lieve aumento per la giornata di domani come potete vedere dalla grafica domani venerdì 27 marzo non ci sono buone notizie dal punto di vista meteorologico addirittura la neve spunta vedete con il simbolo grafico animato nella parte meridionale sui sibillini tanto per capirci insomma avremo dalla tarda mattinata precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio a cominciare dai settori nord della regione che poi si estenderanno progressivamente anche al resto della regione i fenomeni di pioggia temporali saranno in esaurimento dalla sera a partire da nord il limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1500 metri saranno in calo nel pomeriggio fino a 1100 metri in particolare nei settori meridionali della regione e questo per effetto delle temperature in diminuzione per quanto riguarda i prossimi giorni vediamo sabato 28 ecco dunque che il maltempo scivola via lascia spazio al sole sole che bacerà la regione tutta la giornata di sabato mentre tempo stabile soleggiato è previsto anche per tutta la prossima settimana allora c'è questa storia che vi abbiamo raccontato ieri di due giovani uno di saltara e l'altro di orciano che avevano organizzato un addirittura un duplice omicidio è una storia che va letta tant'è che il messaggio il resto del carlino dedica due pagine a questa vicenda una storia di sesso e di soldi scrive uno voleva uccidere una donna per amore l'amico invece la nonna per l'eredità sono stati arrestati sono finiti in manette due giovani per tentato omicidio alla prima avevano tagliato i freni dell'auto c'è e i protagonisti di questa vicenda sono luca e vincenzo cioè furbo e più furbo prendendo spunto dal nome che è stata data questa operazione furbo e più furbo il primo lavora terra l'altro è disoccupato ambe due sono incensurati illegale di baci che è uno luca baci che è uno dei due arrestati dice ha sofferto sudditanza nei confronti dell'amico mentre l'avvocato di mancani vincenzo mancani dice quelle parole sul volere uccidere l'anziana sono state dettate dalla rabbia del momento allora chi sono luca baci e vincenzo mancani lo potrete leggere sul giornale di questa mattina la pagina di fano invece preside fanese contro le scuole di senigallia scoppia la guerra dell'orientamento anna gennari dice dei miei cinque istituti ho potuto presentarne soltanto uno la dirigente scolastica del polo 3 anna gennari accusa senigallia di una sorta di protezionismo e dice ci vietano di presentare le nostre scuole in particolare nel polo scolastico 3 ci sono corsi di studio che a senigallia non ci sono ma che non sarebbe stato consentito appunto di presentare la replica della collega di senigallia dice rita bigelli abbiamo invitato quelle che non sono presenti nel nostro territorio la lente caritativo sfrattato dalla capannone distribuiva verdura ortaggi e alimenti vari ai alle famiglie povere e così queste centinaia di famiglie della valle del cesano adesso restano senza senza frutta e la responsabile di questo istituto per la famiglia onlus dice abbiamo bisogno di una sede siamo disposti pure a pagare la gente ci chiama disperata e allora visto che sono disposti anche a pagare adesso i capannoni ce n'è una marea sfitti che quindi potrebbero servire all'occorrenza insomma speriamo che questa cosa si risolva al più presto poi il resto del carino questa mattina sandro franceschetti ha raccolto lo sfogo di questo nonnino di 92 anni di fanno che abita sulla famiglia a poche centinaia di metri poche decine di metri dal confine con cartoceto che nei giorni scorsi è stato pizzicato a non far bene la differenziata ha messo ha messo un contenitore con nel posto sbagliato gli ispettori sono arrivati poi evidentemente da qualche scontrino sono arrivati a colui che ha compiuto questo gesto e quindi adesso il 92enne avrà una multa una sanzione di 50 euro che tra l'altro ancora non gli è stata notificata parla il nonnino di fanno pizzicato sulla differenziata certe cose non devono accadere dice mi dispiace questa cosa non doveva accadere mi tocca prendere una multa così insomma 92 anni ci sta dispiace nel senso poi la cronaca invece a pesaro alla carcere di villa fastigi ci racconta questa mattina di un 29enne magrebino assegnato a pesaro con il marchio della pericolosità che ha piccato il fuoco all'interno del del carcere non solo questo questo 29enne si è reso responsabile con la complicità di due connazionali dei reati di incendio danneggiamento violenza minaccia pubblico ufficiale e detenzioni di armi da taglio ancora dal dai quotidiani apriamo adesso il corriere adriatico da pesaro così crolla la coesione sociale appello di otto sindaci alla regione marche con i tagli previsti cancellerete il welfare da fossombrone finisce con lo scooter in una buca è la disavventura che è accaduta ad un pensionato che stava affrontando una ripida discesa in sella la sua motoretta che si è letteralmente imbucata subendo notevoli danni è successo l'altra sera a fossombrone davanti alla cattedrale da fano invece sindaco per un giorno sarà giorgia chiara una studentessa dell'istituto olivetti di fano che è stata scelta con un sorteggio la scuola ha realizzato il manifesto l'autore è stato premiato si tratta di filippo pucci seri il sindaco di fano avvia questa nuova iniziativa una volta al mese un cittadino sarà al suo fianco per dividere onori e oneri poi sull'altra pagina del corriere adriatico pediatria disagi del personale un infermiere in servizio tre si modificano a pesaro gli accessi sono maggiori il caso sollevato da pollegione di prima l'italia ipotizzata ad aprile è una modifica non risolutiva e poi sul corriere c'è anche la notizia della scritta e del disegnino osceno che ha deturpato che hanno deturpato l'arco d'augusto questo monumento che evidentemente lo squinternato ignora di cui questa persona ignora l'importanza e la storia ecco perché ribadiamo che evidentemente a scuola va bene conoscere la storia tutto quello che ti pare però prima di tutto sarebbe bene insegnare e far imparare a questi ragazzi la storia della città in cui vivono perché evidentemente questo ragazzino che ha scritto e disegnato questi gesti osceni questo questa cosa non conosce bene la storia dell'arco d'augusto fuori politici andiamo a senigallia fuori politici il bar rischia adesso la licenza addirittura dopo la segnalazione del sindaco al prefetto ma si moltiplicano le prese di posizione a favore del commerciante che dice mi sembra che tutti abbiano colto l'ironia e lo dimostra il fatto che non è stato vietato l'ingresso a nessuno la pagina di pesaro adesso cambiamo il giornale andiamo sul messaggero il messaggero apre con la cronaca e la conferenza dei carabinieri a pesaro per illustrare i contorni a volte anche paradossali di questa vicenda che ha visto protagonisti questi due giovani uno dei calcinelli l'altro come dicevo di orciano vedete il capitano della compagnia carabinieri di fano alfonso falcucci in questa istantanea uno voleva far uccidere la nonna per l'eredità l'altro l'amica della ragazza che lo rispingeva insomma come se non avessero niente da fare a un certo punto diciamo vabbè ammazza cerchiamo di fare i soldi in qualche modo e si sono inventati sta roba i carabinieri hanno sventato per tempo questo piano li hanno arrestati per il primo delitto tentato e in questo caso devo dire che i carabinieri che conoscono bene il territorio conosco bene la psicologia delle persone del posto eccetera eccetera hanno colto bene hanno colto bene alcuni segnali alcuni particolari e mi riferisco ad una denuncia ma poi valetta bene la storia perché un po in a volte può sembrare ingarbugliata però valetta bene però hanno colto bene si sono insospettiti da una denuncia una denuncia che questi due a un certo punto hanno fatto dicendo di aver visto una donna che zizzagava con l'auto ubriaca e che aveva rischiato di ammazzarsi di ammazzare la gente insomma tutte queste cose e da lì hanno capito che c'era qualcosa che non andava e poi sono partite le intercettazioni le hanno tenuti un po sotto controllo hanno scoperto insomma questa questa cosa la provincia trova i fondi per le strade oltre mezzo milioni di euro per i lavori più urgenti di ripristino dopo il maltempo andiamo nelle pagine interne velocemente allora questa è la pagina dedicata alla politica delle marche stiamo andando lo ricordo verso la campagna elettorale verso l'elezione del nuovo governatore della regione allora si parla di alleanze di candidati il grande rebus del centrodestra sostegno marche 20 20 unica coalizione o divisi alle urne domani il nuovo incontro tra forza italia lega fratelli d'italia e le liste civiche mentre dal si allontana la sfiducia a spacca da parte del partito democratico che va ricordato l'ha sostenuto invece nelle precedenti elezioni spacca lo ricordiamo è governatore ormai da due mandati questo è il terzo ecco perché il pd ha detto ma basta perché dopo due mandati il terzo non te lo appoggiamo e quindi no spacca però insiste vuole fare ancora il governatore ha scelto di passare a destra con queste liste eccetera eccetera insomma e va bene comunque il pd dice non lo sfiduciamo senso di responsabilità di assessori e consiglieri poi ex amga se c'è un colpevole al comune parlano gli avvocati parla l'avvocato roberto brunelli difensore di alcune delle ditte proprietari del famigerato terreno di via morosini e poi ancora la pioggia non ferma gli studenti che protestano per contro la chiusura di pesero studi insomma per sensibilizzare sul futuro di pesero studi i corsi di arabo e cinesi si sono tenuti nel porticato di piazza del popolo a pesero mentre sempre dal capoluogo di provincia la storia di questo straniero che 29enne che a un certo punto tampona una macchina un senegalese che ha tamponato una macchina ha provocato questo scontro ovviamente poi sono arrivati gli agenti della polizia municipale di pesero che hanno controllato i documenti hanno scoperto che aveva la patente falsa non è una novità purtroppo tra assicurazioni e patente false qui è una fiera voleva uccidere la nonna per l'eredità sventato dai carabinieri il piano diabolico di due amici pensavano di scambiarsi i favori per commettere omicidi prima hanno sabotato l'auto ad una cinquantenne cinquantasettenne all'incirca di calcinelli ritenuta la causa di un flirt fallito per questo sono stati arrestati il più giovane si era convinto che con la proprietà dell'anziana avrebbe risolto tutti i problemi della sua famiglia poi la pagina di fano per chiudere chiara giorgia chiara baldarelli sindaco per un giorno la studentessa dell'olivetti il prossimo 9 aprile affiancherà seri nei suoi impegni istituzionali e poi i dipendenti comunali volontari nei quartieri istituito un tavolo per il mantenimento del decoro urbano a centropagina appalto per le mense scontro in comune ulteriori strascichi previsti anche nell'aula del consiglio del vecchio ribadisce le accuse sui criteri della maxigara ma la commissione difende l'assessore e l'operato dei tecnici e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa che torna naturalmente domani mattina alle 7.45 puntuale alle 7.30 puntuale come sempre mentre in replica alle 9.10 alle 13.30 oppure a un demand in qualsiasi momento sul nostro sito internet occhioalanotizia.it invece questa sera come sempre c'è il telegiornale occhio alla notizia ma vi ricordo anche che abbiamo il nostro la nostra applicazione che è disponibile sul su google play quindi basta andare sul google play chi ha android scrivere occhio alla notizia scaricare l'applicazione ed essere sempre aggiornati avere tutte le informazioni che noi pubblichiamo anche sui social network in un unico in un unico strumento che è appunto la nostra applicazione gratuita grazie per averci seguito buona giornata e a domani grazie a tutti grazie a tutti